Vuole fare una scorciatoia? Se ne vale la pena. Prego. Puoi non toccare... Puoi non mettere le mani addosso? Prego. Eh, ma puoi non... Questo è il testo. Questi sono i miei possedimenti. Non sapevo dire di possedere così tanto. Facciamo una composta di marroni. Questa che abbiamo preso a destra non è proprio una scorciatoia. Ma è un'allungatoia. Qua è dove mangia la servitù nei giorni in cui non piove. Stia attento, dottore, che è scivolosa. Ah, ma lei ha sulle scarpe. Ho le scarpe anti-sdruciolo. Vedete, mi sono fatto tutto da solo. Non possedevo nulla. Poi ho avuto delle intuizioni geniali nella finanza. Giovanni, andrebbero un po' pareggiate. Ha ragione. Questa è una statua del Seicento di Tonino di Limberti. Questo è l'idraulico che è venuto a sistemare la rubinetteria della casa. Buongiorno. 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 Il Faggio è un faggio molto bello. È una triade di faggi centenari. Questo invece è uno stupendo albero dei tulipani. Eh, mi è costato, sa. La prima fortuna finanziaria ho comprato quest'albero qua. Un mortacci vostro. Ehi! Ehi! Lui ha fatto una cura dimagrante a base di banane. Veramente? È dimagrita? No! Però deve vedere come fa l'allambica! No!